Ciao Pietro, come stai? Ci ho mancato ascetti due mo, non basta stato un bastardo Grazie del benvenuto eh Eh no, stai a me Non so stare Non so stare, che è? Lascialo Giovanni, la fai del mare Giovanni, ti prego, lascia stare Prego, Giovanni Non azzardarti a mettere le mani addosso nel fratello Giovanni, Giovanni, ti prego Fermo, fermo Fermo, fermo Come stai? No, no, ci lo vado a fare per stare a ranata Ma come stai? Entro, ma che non ci ha? Mi note sul cavallo Ma come stai? Ah, ah, ah E' un po' E' un po' E' un po' Tu questa cosa non mi piace Tu sci, ti ringrazio sondare per i vinti o per questo non è daicolo Tu sci se non la fa abbandonare mai però questo altro manco su di noi mi interessa è una cosa troppo umana su di noi? Secondo te il prefetto è un mega guadagio pensiamoci bene Crammino ha una gara Questa è una villacchieria, non è possibile Già 10 minuti dopo comprimere ciò che è una cosa che mi mandava E tu intenzione pensi? Tu non mi trovi la barra con noi Non mi disposti Che è meglio che manco grammi non ci piegare i suoi